ciao a tutti e bentornati qui con captain of industries ciao a tutti e bentornati qui con captain of industries stiamo procedendo abbastanza bene ragazzi stiamo procedendo benissimo anzi posso dirvi che qui siamo quasi al traforo manca pochissimo e poi abbiamo fatto spazio qua per i nostri naufraghi perché li sposteremo da qua vediamo se ce la facciamo in questa puntata spero di sì e oltre al fatto che stiamo allargando anche qui dove andremo a mettere le nostre serre vediamo un po perché voglio spianare anche sta parte qui comunque tantissimo lavoro da fare è in questa puntata qua andremo a fare anche i prodotti per i casalinghi diciamo dov'è qui andremo a fare le sedia d'ondolo e oltre a questo andremo a iniziare vediamo se ce la facciamo la il laboratorio numero quattro così che andiamo anche per gli elettrodomestici e poi tutto quello che ne segue da questo momento in poi ok arrivato qui dovremmo fare tutta questa parte qua andremo anche poi piano piano a fare l'oro zucchero canna i wustel andiamo a fare tantissima roba la cosa più importante nel momento in cui sblocchiamo il laboratorio quattro sarebbe questo così che almeno utilizziamo meno carbone per tutto e non siamo iniziamo utilizzare l'elettricità che poi andremo a produrre anche con il nucleare ma molto 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 più avanti per adesso intanto mettiamo in funzione questa cosa qua che ci serve allora abbiamo i prodotti per la per la casa mettiamo in funzione anche la frutta speriamo di avere un po di spazio più avanti la cosa per il riciclaggio per riciclare non riciclaggio ragazzi per riciclare anche per i nostri naufraghi questo lo mettiamo avanti e questo mettiamo avanti e qui ci siamo abbiamo fatto tutto questo però abbiamo bisogno del laboratorio 3 ancora non è sbloccato per sbloccarlo abbiamo bisogno di fare altra roba per adesso no abbiamo bisogno di microchip o per meglio dire le schede di microchip laboratorio 3 o meglio e manutenzione numero 2 sarebbe quella dorata e per questo abbiamo bisogno anche del coso per la manutenzione di come si chiama qua numero 2 che quello potremmo andarlo andare anche vedere se possiamo già farlo no non possiamo farlo se prima non abbiamo sbloccato tutto ok manutenzione siamo a 76 per cento se ci clicchiamo sopra effettivamente siamo manutenzione questa è quella che viene prodotta ok e questa è quella che viene consumata a vedere allora abbiamo un consumo tra cui possiamo vederlo qua la maggior parte di quello che viene consumato lo fanno i nostri camion poi tutto il resto ma la maggior parte come potete vedere qui è sono i camion ok per parto 1 parto 2 allora questa è il blu quello che viene prodotto è il giallo è quello di cui abbiamo bisogno come potete vedere non basta averne solo una ne abbiamo bisogno di due mettiamo in funzione anche la seconda vediamo se questo fra un po schizza le stelle altrimenti dobbiamo guardarci per fare qualcosa di meglio sì ok allora vediamo l'elettricità è tornata sì ok elettricità è tornata manutenzione è tornata sì ok è tornato tutto perfetto questo lavoro a questo lavoro va bene allora qua secondo me ci dovremmo essere oh sì allora abbiamo stato spazio per farlo qua vediamo come si è messi sì allora ne mettiamo uno qui facciamo una mezza programmazione di come dovrebbero venire in magazzino e mettiamo uno qua quanti sono sono 2468 e va bene quando abbiamo qua due quattro sei otto precisi ok qui ci andiamo a mettere la cosa per la depurazione qua hanno già riempito velocità però qui non hanno ancora a questo punto a questo punto facciamo una cosa perché altrimenti raga non ma spottiamo lo qua tutto sto cacchio di quarzo perché questo punto possiamo tirare via anche uno da qua però visto che comunque ci sono questi ha guardato qua che non dà fastidio così qua ci andiamo a mettere anche la cosa per la depurazione dell'acqua qui manca dell'acqua perché manca dell'acqua o comincia a scarseggiare l'acqua ah sì vabbè l'elettricità era finita e l'acqua scarseggia è normale sta cosa qua adesso piano piano arriverà dappertutto un'altra volta allora questo c'è sì ok allora facciamone uno veloce riusciamo a farne due sì ok è quasi quasi provo a fare anche questi così almeno allora facciamo pane pane ok io adesso fermo un attimo tutto perché voglio svuotare quelli e poi facciamo pane pane se questi a momenti cominciano a lamentarsi che hanno non hanno acqua non hanno questo non è ok allora abbiamo bisogno di immondizia e la metteremo qui anche qui poi abbiamo bisogno di un trasformatore che metteremo qui che non è quello che non serve quasi a niente il coso di biomassa anzi no questo lo spostiamo che lo mettiamo qui quello di biomassa lo mettiamo qui e poi quello con l'acqua lo metteremo qua perché abbiamo un po' di spazio e questo penso che vada bene anche qui e poi abbiamo bisogno che possiamo metterci questo 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 ok questi van bene perché ne abbiamo quattro e qua dovremmo averne anche quattro uno due tre e quattro benissimo ok allora qui come siamo messi allora tiriamo via sta roba che non serve a niente anzi ci abbiamo fatto dei danni e qua non dovevo neanche più scaricare invece continuano a scaricare e hanno rotto ok allora facciamo uno di questi qui qui ok ok adesso dopo qua lo spianeremo ok qua scaricano? sì va bene meno uno qua due ok qua cosa c'è? va bene va bene va bene va bene allora l'acqua abbiamo bisogno di acqua che dovremmo prendere da qui per adesso la prendiamo da qua perché altra acqua non ne abbiamo che significa che questa è acqua sì allora 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 io direi che qua ci stiamo alla grande ok questa parte che abbiamo qua più o meno l'andremo a copiare più o meno non per tutto perché a noi serve solo questo perché a noi serve solo questo e che faremo qui dai dai quindi quindi allora Grazie a tutti. 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 Uno di questi lo metteremo qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo, 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 questo... Allora abbiamo bisogno, questo non possiamo farlo perché abbiamo bisogno dei 150... Abbiamo spazio per... 2.000 persone e... Abbiamo... Ok. Si, dai, hai iniziato a lavorare. Sì, 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 sì. Questo cos'era... Qua come si è iniziato a lavorare... Via... Via... Perché quello per adesso da sopra... non posso costruire... Non posso costruire... Via... Tanto per farli... è iniziato, sì, 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 sì... Allora facciamo uno di questi... Potremmo essere però... Quarzo... Così lo buttiamo direttamente qui... Siamo poi... Vedete come arrivano tutti? Perfetto. Lo carichiamo e lo scarichiamo direttamente qui... Così iniziamo a spianare... Fatto questo poi andremo a fare anche l'altra parte qui... Qua... Come si è messi? Riusciamo finalmente a metterci sto coso qua? Vediamo... Eeeh... Manca poco... Aspetta, 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 aspetta... Perché se facciamo tutta questa parte qui... Poi... Non me lo fa fare... E questo non ci voleva qua... Mannaggia... Ho scazzata questa roba qua... Che l'ho scazzata... Allora facciamo uno di... Questi... Non lo va... Hop... Eh... Mi tocca rifarlo così... Ok... Qua... Tiriamo via... Oh... Vedete qua quanto spazio abbiamo per andare a costruire adesso la nostra produzione di benzina bella alla grande? Oh... Finalmente direi che ci siamo... Vediamo qua... Oh... Vedete che adesso il cibo c'è per 99 mesi... Questi adesso sono un po' sovraccarico... Non so perché... Non so come mai... Probabilmente perché scaricano e caricano dappertutto... Vedete che adesso qui... Carichiamo e scarichiamo direttamente... Carichiamo e scarichiamo direttamente... Facciamoci uno di questi perché non mi piace che loro fanno avanti e indietro da lì... Non ho capito il motivo... Ok... Così almeno fanno avanti e indietro da qui... Perché vanno fino a là e troppo lontano... Perché se prima non tornano alla torre... Loro non scaricano... Non ho capito perché sta cosa qua... Vediamo se è vero... Vediamo se è sbagliato... Comunque poco fa facevano in questo modo... Vedete che... Non so perché ma vanno in là... Ah... perché vanno... Vanno qua... Vabbè ma tanto la sabbia abbiamo bisogno... Tutto il resto va scaricato qui... Ok ragazzi... Direi che questa puntatina è finita... Visto che abbiamo fatto tutto... Nella prossima andremo a fare il... Il... Bruciatore... Così che andremo... Vediamo se a proposito ce l'abbiamo già... Il bruciatore... Dov'è? Andremo a mettere anche la statua... Questo è quello del filtro... Dov'è il bruciatore? Aspetta che vediamo se ce l'ho qua... Qui... Immondizia... Sì... Questo... Dov'è? No non è questo... È questo... No... Non è questo... Ecco qua... Questo qua... Con questo andremo a bruciare i nostri... La nostra immondizia che trasformeremo in... Ehm... Gas di scarico che comunque dopo andremo a trasformare ancora... Che faremo... Ehm... Un altro prodotto ancora... Facciamo... 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 Grafite... Ok ragazzi... Appondamenta al prossimo video... Sempre qui con Captain Infinity 3... Un saluto... Ciao! Ciao!